buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale nel brevissimo video di oggi andiamo a vedere una piattaforma dove assolutamente non dovrete mettere nessun satoshi nessuna cripto valuta meglio starne alla larga sto parlando di mio stec che andiamo a vedere questa piattaforma dopo la sigla ci sulla pagina di news tech andiamo un attimo ad analizzarle insieme tanto sfogliando l'home page vediamo che ci sono i classici associazione di colori di pagine preimpostate dove abbiamo i piani compensi e soprattutto verso il fondo abbiamo da quanto tempo è stata lanciata la piattaforma quindi praticamente giorno zero è appena nata quanti investitori ci sono i depositi disponibili di spoli prelievi totali e soprattutto le persone che stanno investendo i top investitori prefera con gli ultimi depositi gli ultimi ritiri come vi ho già detto in video precedenti nessuna piattaforma seria comunque quasi nessuna ha bisogno di dire da quanti giorni è attiva e di far vedere quanto gente sta investendo sulla loro sul loro sistema tra le altre cose neo tech non specifica minimamente come ottengono questi rendimenti dicono solo che sono leader nel sistema degli investimenti e che generano profitti grazie alle critto valute ma non dicono da dove vengono questi profitti andiamo a vedere brevemente ci sono uno due tre quattro cinque piani che va dal base al vip dove hanno un rendimento attenzione giornaliero che va dal 6 per cento del piano base fino al 10 per cento del piano vip anche per chi è in questo settore da poco può ben capire che interessi del genere non sono minimamente sostenibili e soprattutto da piattaforme dubbie dove non si sanno neanche in che modo generano questi profitti anzi in realtà si sa perché tra le righe quando notiamo tutti questi rendimenti con anche dei premi referral elevati si va a delineare uno schema ponzi dove la sostenibilità è dovuto e dovuta dalle persone che entrano in continuazione nel momento in cui cala questo ingresso questo flusso di cripto valute di denaro e le uscite stanno quasi per pareggiare le entrate la piattaforma si blocca allora dicono di essere una ltd solitamente diciamo che le piattaforme che cercano un po di mascherarsi meglio di comunque buttare il fumo negli occhi mettono anche il solito certificato che ricordo che in inghilterra costa veramente pochissimo creare un ltd loro non si sono neanche sforzati di caricarne uno ma se andiamo sul supporto notiamo che questo è l'indirizzo crow street london e quindi loro dicono di essere a londra ma se facciamo una breve e veloce ricerca sui domini andiamo a vedere che loro sono sono in ecuador quindi non penso proprio che questa azienda si trovi a londra ma gestiscono tutto dall ecuador ovviamente se proviamo e provate a telefonare al numero che c'era prima in sovraimpressione trovate alla voce supporto risponde una voce automatica o molte volte è irraggiungibile se andiamo più in basso andiamo a vedere anche i rendimenti dei referral che vanno dal 5 all 1 per cento a seconda dei livelli normalmente dal 5 all 1 per cento anzi fino al 10 potrebbe essere sostenibile sempre se c'è un vero business dietro ovvio se ci sono alle spalle anzi se ci fossero dei veri trader con degli storici dei certificati realmente comprovati sapete benissimo che con le cripto valute si possano ottenere anche guadagni elevati per chi è capace che veramente in grado in gamba ma su queste piattaforme dove non si sa veramente che fine fanno i no le nostre cripto valute ma soprattutto da dove ottengono questi rendimenti questi percentuali sono totalmente fuori mercato e sono folli vanno a indicare uno schema ponzi quindi per piacere fatemi sta cortesia state lontano da nino stack essendo una piattaforma nuova lanciata al giorno zero quindi oggi stesso al momento della registrazione sarà una delle piattaforme pubblicizzate nei canali che conosciamo già online e offline quindi mi raccomando non investite ai vostri bitcoin e le vostre tiro in vostre light coin come vedete i vostri doge coin perché nel giro di poco chiuderà baracca e burattini e andranno a fare festa siamo arrivati anche oggi alla fine del nostro video spero sia stato di vostro gradimento ma soprattutto spero sia servito a non farvi buttare via delle cripto valute che facciamo così fatica ad acquistarle a farle crescere di valore al dalle nel tempo non è giusto che se le vanno poi a godere queste persone che stanno dietro a questi siti dall'altra parte del mondo se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al canale ad unire la nostra community telegram di lasciarmi soprattutto un like e un commento per darmi la possibilità ad essere indicizzato da youtube a farmi conoscere ciao a tutti ragazzi buona giornata